grande Antonio Rubino, che è anche il disegnatore della testata Corriere dei Piccoli. Partiamo da questo periodo fino ad arrivare agli anni della Seconda Guerra Mondiale con un tripudio di giornalini pubblicati in Italia, quelli che Leonardo, Fabio e anche Sergio Lama, che è il terzo autore del Cetto Topolino, definiscono i principali della cosiddetta Comics Craze, della follia per la lettura dei fumetti, in particolare si parla di quelli di Nervini, Avventuroso, dato che il titolo del libro è Dal signor Bonaventura, che è quello di cui abbiamo già parlato, questo signore che anche vi faccio vedere nel suo primo libro monografico pubblicato a suo tempo da Garzanti. Siamo addirittura prima della prima rivista di fumetto serio italiano che sarebbe Linus, aprile 1965 e qui un anno prima Garzanti pubblica una collana di volumi legati ai grandi eroi del fumetto italiano e non solo e comincia proprio con il signor Bonaventura. E il secondo parametro del libro di Pierluigi è Saturno contro la Terra, non un personaggio ma un mondo, una saga, dove emerge la figura del dittatore Rebo, despota del pianeta Saturno. Io chiedo a Pierluigi di parlarci brevemente del primo e del secondo. Quindi Saturno contro la Terra ha dato la stura a tutta una serie di cose, però va detto anche che Saturno contro la Terra, se vogliamo rimanere un attimo nell'ambito della fantascienza pura, non è la prima storia di fantascienza italiana. Ecco, questa è una vigneta tratta dall'ultimo episodio, quello in cui addirittura gli autori fanno spaccare la Terra in una maniera piuttosto spettacolare, se vogliamo dire. E quindi non è l'inizio della fantascienza italiana. La fantascienza in Italia ha una tradizione in generale che risale a secolo precedente. Ci sono autori come Iambo, Enrico Novelli, Iambo che fa romanzi come La colonia lunare già nel 1910, oppure Ciancimino, Luigi Motta, che sono autori che hanno creato una sorta di via italiana alla proto-fantascienza, come si suole chiamare quella precedente, alla nascita della fantascienza vera e propria datata negli Stati Uniti nel 1926, con l'apparizione di Amazing Stories, dove apparve peraltro il racconto che originò lo stesso Buck Rogers, che è un racconto di Phil Nolan, che apparve appunto prima sulla rivista come racconto e poi da questo John Deal ne fece una serie a fumetti. In Italia in realtà... Ci parlavi del castello dei misteri in realtà, come... Esatto, se ne parla prima. Il castello dei misteri è di due anni prima, quindi già anticipa i due anni rispetto alla data di esordio di Saturna contro la Terra. Ed è una storia anche molto interessante, tra l'altro, perché aveva degli spunti parecchio... c'è uno scienziato che è il dottor Maleficus, che peraltro ritornerà in una seconda puntata più avanti, che inventa una sorta di... si chiama fotometempsicellula, uno dei soliti apparecchi geniali degli scienziati a fumetti e non solo di ogni epoca. E con questo, nella seconda tavola, si può vedere una cosa che è del 1934, mi è sembrata particolarmente gustosa, nel senso che la prima tavola, la seconda tavola si apre con una vignetta nella quale, e dovrei averla anche, dovrebbe essere la numero 12 se vogliamo farla vedere, nella quale il... ci sono il ministro del... il ministro dell'ordine e il capo della polizia che sono stati tramutati in due caimani. Ora nel 1934 un delitto di lesa maestà come questo, evidentemente sarà sfuggito, non so, evidentemente, però è abbastanza insolito trovare una cosa di questo genere. In realtà poi ci sono tante altre storie di fantascienza, alcune completamente sconosciute, ma che pure hanno degli aspetti estremamente interessanti. Ancora quattro anni prima, se vogliamo, non mi azzardo a dire che è la prima storia di fantascienza italiana, vera e propria, però ne ho... vabbè, personalmente potrei anche esserne convinto, perché appare una storia buffissima che vede protagonista un tal Arrigo, è la numero 5 come immagine, un tal Arrigo, che è in realtà il testimonial di una famosa azienda Dolciari Arrigoni, che appunto vive tutta una serie di avventure qua e là nel mondo. E in questo episodio, che compare proprio nel 1930, questo è di Namello in realtà, di Rubino, e compare nel 1930 e in questo senso compie un viaggio verso Marte con un'astronave vera e propria, quindi niente sogni, c'è proprio un'astronave, compie un viaggio, porta i marziani sulla Terra, vivono un'avventura particolarmente bizzarra, perché comunque stiamo parlando di fumetto ancora umoristico, non certo avventuroso, e poi alla fine chiaramente c'è la... come in tutte le reclame in fila Carosello, c'è alla fine il... i prodotti Arrigoni che trasformano questi marziani buffi, che sono testa, gambe e basta, li trasforma in esseri umani, in piccoli esseri umani verdi, peraltro somiglianti un po' anche ai puffi, se vogliamo, e quindi finisce la storia per passare poi ad altre avventure. Però questa è una storia lunga, non è più una singola storia di una tavola o due, queste sono una dozzina di pagine che quindi si dilungano, hanno una vicenda articolata, partono da un presupposto tipico delle ricerche e delle esplorazioni del secolo precedente, quella del famoso premio che raggiunge per primo una determinata meta, ora un determinato risultato, e qui siamo appunto negli anni 30, nel 1930, quindi sarebbe addirittura quattro anni prima. Non che prima non ce ne siano state le cose. La cosa successiva? Non so. Con Arrigoni, scusate. Con Arrigoni, il foto della casa era, Dolciari e Arrigoni. Vediamo se ce la può mostrare. Adesso si è. Che slide? Scusami, è la 5. Questa è per me la 5. Gustavo Petronio. 05, no, c'è Arrigo. Beh, la vediamo sul libro senz'altro, eh. No, sul libro c'è sicuramente. Eccola qua, è questa, è questa. Eccola qua, Arrigo è quei personaggi, con la testa tonda, con dei lunacci, degli alieni verdi. In questo caso sono i marziatici, però ecco, questa è la vicenda. Questa è l'ultima tavola, Polaro. Sì. Negli anni 60 lo vedremo animato in Carosello, in pubblicità della Arrigonia, animato da figlio dei fratelli Gavioli. Ecco, questa è disegnata da Gustavo Petronio, se non erro, o perlomeno. Ecco, questo sì, è Gustavo Petronio. A quale scopo serve oggi a oltre 50 anni dalla macchina? Vedo in particolare, vogliamo fare un testo come il tuo. È sicuramente un testo di artico, accettabile alle università, anche alle superiori, nel sistema di approfondimento, e anche come, diciamo, approfondimento per gli studiosi. Si è molto scritto, ma si è scritto spesso in modo abbastanza settoriale. I nostri amici Fabio, Leonardo e Sergio poi invece ci parleranno di qualcosa di estremamente più specifico e concentrato. Il tuo saggio abbraccia circa 40 anni di narrativa, di pubblicistica, di stampa italiana. Che cos'ha di differente e di indispensabile, oltre al fatto che adesso è acquistabile, edito da Carrocci, mentre altri sono ormai passati nel dimenticatoio, superati, e probabilmente neanche più reperibili sul mercato, neanche su ebay o con i sistemi che la tecnologia ci consente adesso. Ma guarda, lo scopo mio era quello di fare un viaggio alle origini. Trovo che sia sempre molto interessante, anzi è utilissimo cercare di capire da dove veniamo, in qualsiasi campo ci troviamo, insomma. E studiare, come ho dovuto fare, perché ho dovuto sfogliarmi, tutte queste riviste sono state sfogliate una per una, non dico numero per numero, ma alcune sì, per cercare di capire intanto cosa leggevano, ma non soltanto, come si poneva anche il fumetto nei confronti del mondo che lo circondava. In realtà ci sono tanti agganci, ma questo sto dicendo una cosa ovvia, se vogliamo. Però capire anche quali fossero, come fossero, e quali tipi di personaggi, di rapporti ci fossero con la cultura dell'epoca, ma anche la politica, sappiamo tutti, appunto, lo vedremo molto più in particolare con Eccetto Topolino, e soprattutto dal regime fascista che ha governato dal 22 fino al 43, per cui stiamo parlando comunque di 20 anni, metà del tempo, più di metà del tempo preso in considerazione. E quindi volevo cercare di capire quali fossero queste cose, non soltanto, ma anche capire come leggessero i ragazzi, o i lettori in generale dell'epoca, che leggevano in maniera completamente diversa dalla nostra. E quindi ho, anche a causa della limitazione dello spazio, io avevo a disposizione un tot di pagine, e ho anche sforato, va detto, quindi non potevo occuparmi di tutto. E ho pensato di occuparmi di quello che mi sembrava fosse, appunto, il format per eccellenza di quegli anni, che era il giornale sull'onda del Corriere dei Piccoli, quindi dopo lo stesso giornale di Balilla che arrivò poi per contrastare, il giornalino, l'avventuroso soprattutto, Topolino ancora di più, se vogliamo, per certi versi. Il topolino giornale, ovviamente, non il topolino che conosciamo oggi. E quindi andare a vedere che cosa c'era dentro e come questi giornali e questi editori interagivano con il materiale, non tanto dal punto di vista del dietro le quinte, come hanno fatto benissimo, devo dire, Fabio, Sergio e Leonardo. E quindi sono andato a cercare queste cose. L'ho sfogliato, ho visto e mi è sembrato di individuare alcuni punti interessanti. Ne vogliamo dire uno, per esempio, una delle figure tipiche del fumetto italiano, in questo caso, io parlo del fumetto italiano prodotto in quegli anni, una delle figure tipiche di tutte le storie, e non parlo di tutte le storie di fantascienza. Poteva essere anche una storia ambientata in Abissinia durante l'occupazione dell'Abissinia e tutte queste storie. Gran parte di queste storie vedono protagonisti degli ingegneri, cioè gente che costruisce qualcosa, che siano ponti, che siano autostrade, oppure che siano addirittura tunnel sottomarini attraverso l'Atlantico, come in Guerra di Continenti, tra l'altro tratto dal romanzo di Luigi Motta, non è casuale, come non è casuale che ci siano le storie aviatorie, perché il regime fascista era interessato particolarmente al movimento futurista, con il mito della macchina, della velocità. Lo stesso Marinetti entrerà in certe decisioni che verranno prese in seguito per quanto riguarda i fumetti in Italia. Per cui questa, per esempio, è una delle caratteristiche che si evincono dalla lettura di tutte queste storie. E ripeto, non si tratta di storie di fantascienza, possono anche aver creato una locomotiva particolarmente potente o altro. Però sono da una parte scienziati, dall'altra parte tecnologi. Fanno tutto, perché sono persone che non stanno in una scrivania, non stanno in un laboratorio, ma escono, combattono, fanno. Un po' come faceva il dottor Zarro, se vogliamo, comunque, in Flash Gordon, che in 448 gli costruiva la macchina o l'espediente che gli serviva per combattere il perfido Ming, no? E quindi ci sono diverse storie. Per esempio, adesso io vedo Gli astronauti dello scopanuvole. Questa è una storia che ha dello straordinario, assolutamente dello straordinario, perché pur essendo una storia divertente, una storia umoristica, eccetera, è di Roberto Sgrilli, e appare nel 1937 sul Corriere dei Piccoli, Questa storia cosa ha? Questa, detta in due parole, questa storia vede un personaggio che è appunto questo scopanuvole, che è il nome di uno scienziato, poi il nomigno di uno scienziato, chiamato così perché è molto alto, che inventa e vuole andare nello spazio. Allora, in qualche maniera, riesce a trovare i fondi per andare nello spazio, si porta questo ragazzino e finisce su Marte. Fin qua, niente di che. Il problema è che, il problema, il grande merito di Roberto Sgrilli in questo caso è che se noi leggiamo Lady Dascalier a fondo vignetta, scopriamo tutta una serie di caratteristiche che sono proprie del volo spaziale oggi. Per esempio, la più eclatante, quella che noi per anni non abbiamo visto né nei fumetti né al cinema, è che le astronavi viaggiano seguendo un moto inerziale, insomma, una spinta inerziale, non vanno, non rimangono quei motori accesi per tutto il viaggio, i motori vengono accesi dopo che sono usciti dall'atmosfera, sono nello spazio, il volo è inerziale, cioè procede appunto per inerzia, perché davanti non c'è nulla che ostacoli il viaggio, come può essere l'atmosfera, per esempio. E questa è una cosa particolare. Poi gli astronauti fanno esercitazioni su una centrifuga per abituarsi alle varie gravità che durante la partenza si assommano sul loro organismo, vanno nello spazio e appunto si muovono, se devono spostarsi, vanno in... usano dei razzi laterali, come fanno esattamente i moduli spaziali che noi conosciamo da te. Pensa che rispetto ad altre storie create negli Stati Uniti, per esempio, c'è il tentativo di dare delle spiegazioni a dei fenomeni, cosa che altrove non accade. Cosa che altrove non accade, pensa che lo stesso lo stesso Buck Rogers che è il primo eroe spaziale, viaggia nello spazio così. Non sanno nemmeno se nell'aria c'è... se sulla luna c'è l'aria quando ci vanno, insomma. E quindi, cosa che già si sapeva, peraltro, per cui non è questo. E loro invece è così. Probabilmente esiste un aggancio con la realtà perché pochi anni prima nella... è apparso un libro di Herman Hobert che è il papà scientifico di Werner von Braun, l'uomo che poi ha mandato davvero l'uomo sulla luna, che si intitolava Il razzo negli spazi interplanetari. Uscì 3-4 anni prima, se non ricordo male, e appunto teorizzava quello che era il volo spaziale. E in questo libro c'erano tutte queste tecniche che poi Roberto Sgrille ha utilizzato. Ecco. Quindi da questo punto di vista la fantascienza italiana ha dato anche un contributo non indifferente e maggiore di tanti altri personaggi soprattutto dell'epoca considerati ancora più interessanti o quantomeno di maggiore successo. Lo stesso Saturno contro la Terra non è preciso in questa maniera dal punto di vista scientifico, anzi, ha delle cose particolarmente bizzarre. Lo stesso Zavattino diceva, lui si divertiva un mondo a dire queste cose ma andava a ruota libera, non stava a pensare a quello che stava raccontando. Lui voleva raccontare una storia avventurosa senza che ci fossero troppi vincoli dal punto di vista appunto tecnico-scientifico. Voleva divertirsi sostanzialmente. Quindi questo è lo scopo del libro e questo qua, cercare di far vedere una serie di cose e questo è soltanto il rapporto scientifico. Poi ci sono c'è tutta un'altra serie di cose fra cui le modalità di lettura delle tavole che erano molto più cariche di materiale per far sbrigliare la fantasia. Se uno prende solo la prima tavola di Flash Gordon oggi per raccontare quelle sequenze quanto ci metterebbe una storia moderna? La racconterebbe chiaramente la racconterebbe in altra maniera no? E quindi perché scherziamo se ce l'abbiamo il problema è che ti sento malissimo Ah ok non so e Nicola sa se può fare qualcosa Sì nelle impostazioni del browser dove vedi c'è il simbolo dell'impostazione disattiva i due filtri che vedi attivati echo cancellation e noise cancellation Io? No 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 scusami Luca Parla più vicino al computer se riesci Ok Sì Adesso va bene No adesso va bene prima scusate ma non non sentivo quindi Ecco magari se puoi anche allargarci lo schermo perché ormai l'immagine dietro non ha più io vedo l'immagine degli astronauti e i nostri francobulli Ecco qua Ci vediamo meglio E tra l'altro a questo punto siamo ai 14.39 abbiamo parlato Luigi ha parlato di Saturno contro la Terra e delle pubblicazioni mondadoriane su cui è comparso Rebo e i suoi compagni di viaggio e anche di Malefatte e quindi a questo punto possiamo usare questo ponte elevatoio per entrare direttamente nel mondo di Eccetto Topolino di cui qui brandisco la copia ma è la vecchia copia questa è la prima edizione mentre la nuova ha una copertina completamente diversa e molto carina con un ritrovamento archeologico con un topolino particolare realizzato in Italia di cui non si sapeva bene la notizia e anzi sarebbe carino magari forse cominciare proprio da lì dico solo due cose poi appunto riswiccio come si dice con questa terminologia odiosa direttamente a Pierluigi e naturalmente agli autori accennando al fatto che non si tratta di una riedizione di questo ma di una versione aggiornata e ampliata con un capitolo completamente nuovo che tratta di un tema che per ora in passato era stato soltanto superficialmente accennato e che riguarda un altro editore non particolarmente noto che è il romano Capriotti che a un certo punto si vale di materiale che invece i lettori avevano già conosciuto in precedenza ma insomma questa non devo esporerare io quella che è la principale novità della nuova versione del libro chi comincia a dirci vabbè la lunga io non ero presente nel vecchio incontro quando fu presentato il primo che è una lunga epopea nell'ambito del fumetto anzi del giornalinismo a fumetti italiani in particolar modo passando da Nerbini editore fiorentino a Mondadori nel 1935 con tutta una serie di informazioni molto interessanti che riguardano per esempio l'Otario Vecchi e la Saev ma soprattutto che grazie a Fabio che mi dicono che è stato il principale archivista e topo d'archivio Gianni a proposito della prima edizione è stato possibile avere una serie di documenti confrontabili studiabili in prima istanza grazie all'archivio di Emanuel giornalista poi direttore del Corriere della Sera Guglielmo Emanuel che è anche agente del materiale a fumetti Disney non soltanto del Kingfisher Syndicate in Italia e che ha se uno volesse leggere questo libro da un altro punto di vista lo potrebbe leggere anche come un romanzo biografico sulla figura di Emanuel che chiaramente emerge come un gigante insomma in queste in queste pagine chi di voi si prende la briga di cominciare ah beh cominciamo per prima e quindi sicuramente la palla è a te va bene allora intanto buon pomeriggio a tutti e grazie di averci invitato Certo Topolino è una scrittoriale in Italia vale a dire che si occupa anche dei contenuti quindi tantissime delle cose che ha detto Pierluigi sono dette anche da noi in maniera diversa in sezioni specifiche del libro per esempio la scuola di appunto Pedrocchi Mondadori Zavattini è una buona parte del libro ma sostanzialmente è una storia di come avvenne che il rivoluzionario fumetto americano nel 1934 approdò in Italia e le conseguenze che ebbe però questa cosa la faccio dire a Fabio la passo a Fabio io parlo della copertina la copertina è una trovaia come si perdonaria perché noi da buoni collezionisti siamo affascinati dal materiale che gira intorno al fumetto stesso il fumetto è l'oggetto del nostro amore ma tutti i parafernalia che ci sono intorno quindi le locandine da edicola le pagine pubblicitarie tutte queste cose ci affascinano particolarmente in questo caso noi sapevamo di un lancio pubblicitario di Topolino a Proda in Italia il 31 dicembre del 1932 ad opera degli editori Giuseppe e Mario Nerbini di Firenze la primissima annata rarissima perché ha tutta una storia complicatissima che è trovata nel volume raccontata nei minimi particolari con anche aspetti assolutamente sconosciuti fino ad ora fino alla prima edizione del volume e sapevamo di un lancio pubblicitario un lancio pubblicitario in piccolo fatto sulle riviste della Nerbini stessa le famose dispense cioè le avventure non a fumetti ma in scritte letterarie che apparivano settimanalmente in edicola ci sono delle pagine disegnate da Giovesoppio del Gattano Vitelli con la pubblicità del Topolino ma non sapevamo dell'esistenza di un vero manifesto cioè di una locandina da edicola in grande formato per lanciare il Topolino numero uno ora Topolino al di là del fumetto è un'icona del ventesimo secolo anche del ventunesimo è qualcosa che va al di là del fumetto e quindi è un ritrovamento eccezionale quello del lancio del numero uno per fortuna Claudio Giorda che è uno dei massimi collezionisti italiani di fumetti specialmente Disney è riuscito a metterci le mani sopra e ce l'ha passato in amicizia e così ha voluto adornare la copertina della seconda edizione una cosa sola prima di passare la parola a Fabio il volume è uscito nel 2010 11 se non sbaglio nel 2011 e quindi la gran marco la gran moro è stata fatta per la prima edizione e giustamente come ha detto Pierluigi come ha detto Luca scusate il nuovo capitolo il 10 e poi ne parliamo magari aggiunge moltissime cose in più però c'è anche stato un lavoro di riscrittura di revisione non solo nostra ma anche una revisione scientifica fatta da Giovanna Lambroni che è una bibliotecaria della biblioteca marusceliana di Firenze per portare il volume a un livello di scientificità per poterlo rendere utilizzabile anche come testo didattico ma a livello universitario quindi c'è c'è molto di più effettivamente una volta e mezzo l'eccetto topolino del 2011 con tante cose allora Fabio quello che posso raccontare diciamo la cosa che ci ha un pochino motivato come diceva come diceva anche Pierluigi prima noi abbiamo scelto un focus molto più ristretto i nostri fumetti più o meno partono dal 32 finiscono al 48 ma in realtà il vero nucleo è il quinquennio 34-38 che è la diffusione estrema del fumetto americano in Italia con l'uscita dell'avventuroso e arriva fino al 38-39 con l'annus terribilis nel quale non solo ci sono le leggi razziali ma si parvalice ci sono anche le diciamo così le leggi censorie contro il fumetto che mettono al bando una serie di personaggi fra cui quello che era il personaggio cardini di tutta la rivoluzione che era il che era Flash Gordon sulla venturosa perché questo fuoco così ristretto per più motivi da una parte gli anni 30 sono la nascita della contemporaneità nonostante il regime è chiaro che la maggior parte del diciamo così del modo con cui la società dei consumi si sviluppa e diciamo così evolve ha un suo nucleo una sua radice negli anni negli anni 30 e da questo punto di vista ci sembrava interessante almeno sottolineare un paio di cose da una parte come dire c'è tutta una riscoperta che so ad esempio di quelli che sono stati per citare un'antologia di un po' di anni fa i classici del ventennio ovvero sia la letteratura popolare di massa di quegli anni e il nostro punto era strutturale guardate che all'epoca la letteratura di massa non erano i romanzi coloniali erano i fumetti che come ben sappiamo avevano dei numeri talmente alti che hanno sicuramente influenzato e plasmato un certo modo di vedere ben più del diciamo della letteratura cosiddetta popolare da una parte dall'altra ci interessava anche proprio per questo rilievo cercare di scoprire un po' come dice per lui il dietro le quinte cioè riuscire a capire come mai ci furono all'epoca certe scelte di tipo editoriale cercare di tracciare alle volte lo schizofrenico comportamento dei periodici per cui a un certo punto vengono banditi gli euroamericani dopo un paio di mesi ricompaiono dopodiché si vengono eliminate le nuvolette dopodiché cominciano a sparire gli assassini omicidi e cercare di inserire tutto questo all'interno di una strategia se vogliamo vera e propria del regime che cerca in qualche modo di contenere è una frase che è una metafora non mia ma che mi piace molto della lotta fra diciamo così la la forza centripeta del regime che cerca di plasmare attraverso in quegli anni anche la nascita del ministero della cultura popolare che cerca di plasmare i cittadini e le nuove generazioni con certe parole d'ordine e d'altra parte la forza centrifuga degli editori che in realtà sanno cosa il pubblico apprezza e che quindi è un continuo balletto su quello che può essere fatto non può essere fatto si può pubblicare o meno e diciamo la nostra speranza è stata cercare di provare a dare una traccia un senso a questi diciamo così comportamenti che noi vedevamo direttamente su periodici perché questa è l'altra cosa interessante mentre invece sulla censura peraltro tipicamente preventiva che c'era sulla letteratura a un certo periodo c'è una scusate la censura sulle bozze che veniva fatta tipicamente sulla letteratura c'è per un certo periodo la censura preventiva sul fumetto ma soprattutto i cambiamenti sono rapidissimi perché sono settimanali e quindi c'è modo di toccare immediatamente con mano quello che stava succedendo a livello politico nazionale direttamente all'interno di come certe soluzioni venivano certe soluzioni grafiche e altre venivano proposte all'interno dei settimanali ci è sembrato quindi importante provare a focalizzarci su questo senza contare che abbiamo detto un pochino tutti volenti o nolenti Topolino è il personaggio di riferimento per certo immaginario italiano dagli anni 30 almeno fino agli anni 90 fino a quando non esaurisce diciamo così l'onda lunga del del settimanale libretto perché per almeno 50 anni 60 anni tutti i ragazzi italiani hanno letto e spesso collezionato le produzioni Disney e quindi diciamo il nostro era appunto una cosa sicuramente molto più focalizzata rispetto a quella di Pierluigi ma proprio per questo voleva andare in profondità su alcuni aspetti che in un'opera di maggior respiro di 40 50 anni sicuramente non sarebbe stato possibile raccontare io vorrei se è possibile aggiungere no no prego aggiungi poi di voi no no due cose due cose velocissime sì sì no due cose volevo aggiungere per chi ci segue e non è al corrente di queste di queste cose il ci sono due aspetti interessantissimi nella storia del fumetto in Italia negli anni 30 la prima è che assistiamo a una rivoluzione di contenuti che porta con sé una rivoluzione editoriale vale a dire che se nel 1908 appare il Corriere dei Piccoli e cambia radicalmente le carte in tavola per certi aspetti nel 1933-34 fra l'uscita di Topolino e soprattutto quella dell'avventuroso c'è una batosta straordinaria cosa che cambia veramente rivoluzionaria ed è padossale che avvenga in Italia sotto una dittatura occhiuta grigia e anche un po' funerea nelle sue manifestazioni esteriori oltre che liberticida c'è invece una rivoluzione colorata una rivoluzione che è profondamente dal mio punto di vista come la vedo io anche antifascista nonostante dato a Flash Gordon l'etichetta di eroe maschilista o cose del genere in realtà i grandi fumetti americani che rivoluzionano in America il fumetto nel 34 fanno qualcosa di più in Italia quello che c'è saltato agli occhi nel lavoro lavoro da autentico ricercatore sul campo di Fabio io mi sono limitato a in prima stessura stenderla in maniera un po' drammatica per dare per rendere la narrazione per rendere evidente come si tratti di una di una vera e propria avventura del fumetto in Italia ecco con colpi di scena con buoni e cattivi con finali a sorpresa e diversi colpi di scena come si questa rivoluzione sia stata osteggiata ostacolata da forze che si erano in parte certamente poi la la mano la mano secolare era quella del fascismo ma gli ispiratori erano partito trasversale parecchio quello degli educatori dei pedagogisti di chi aveva a cuore almeno nelle intenzioni il bene dei giovani lettori il fumetto era moderno quindi con ballons con contenuti avventurosi e sessuali spesso come nel caso di Flash Gordon ma non solo anche di Mandrake e di altri era considerato deleterio per l'educazione dei ragazzi ma anche perché portava la parola in subordine rispetto all'immagine quindi qualcosa di devastante assistiamo a questo scontro e nel seguire questo scontro che è stato in 50 anni di pubblicistica a cui noi ahimè per motivi anagrafici abbiamo assistito fin dall'infanzia abbiamo visto nascere e svilupparsi una narrativa sul fumetto in Italia fatta spesso in maniera approssimativa perpetuando anche errori di informazione per decenni noi con la possibilità di accedere non solo all'archivio di Emanuele sarebbe un discorso lungo spiegare chi era veramente Guglielmo Emanuele cosa ha significato e il destino del suo preziosissimo archivio ma abbiamo notato anche come appunto il fumetto avesse smosso interessi colossali e quindi ci siamo trovati a dialogare attraverso le corrispondenze di Emanuele con i massimi vertici della politica della cultura abbiamo la rete di raccomandazione di Giovanni Gentile per Giuseppe Nerbini a Mussolini queste sono cose che danno l'idea di cosa è significato il fumetto in quel periodo l'ambasciatore degli Stati Uniti a Roma che protesta perché sono stati proibiti i fumetti americani e le relazioni e pagine intere sul Times di Londra dove si parla dell'ecceto topolino che poi è il titolo del nostro lavoro ed è il grande mistero un mistero il segreto di Pulcinella perché fu proibito tutto il fumetto americano tranne topolino ebbene c'è tutto questo all'interno del volume c'è veramente tanto e forse la fatica più grande è stata quella di essere sommersi da un'quantità di informazioni incredibile e di averle dovute incanalare in un volume che insomma sono 500 pagine tu vuole fare una domanda scusa Pierluigi sì sì no infatti mi approfitto per rilacciarmi un secondo al mio nel senso che nel mio un capitolo molto ampio dedicato alle riviste di Mondadori Mondadori nel vostro libro chiaramente è uno dei punti focali perché Mondadori ha creato è stato coinvolto intendo Mondadori come casa editrice non parliamo adesso delle singole persone è stata coinvolta in questo fenomeno che avete raccontato anche adesso e che quindi è uno dei momenti fondamentali infatti volevo magari se volevate aggiungere qualcosa in particolare sul ruolo di Mondadori che comunque è stato fondamentale in questo caso per il proseguo del fomento italiano credo che Fabio non so chi di voi due voglia diciamo due parole io e poi lascio la parola su Pedro che a Leonardo che è chiaramente un punto abbiamo circa 5-6 minuti per poter andare avanti è vero Mondadori è stato un editore fondamentale è stato sicuramente quello più organico al regime come diciamo sempre che da regime ha avuto sovvenzioni che era completamente ben ammanicato e ben conosciuto nelle migliori gerarchie e forse con un pochino di ritardo rispetto a dei parvenuti diciamo come vecchi e nerbini si accorge si rende conto dell'importanza del fumetto lo tocca con mano ma soprattutto comincia a pianificare per cui lancia non si accontenta di utilizzare i fumetti americani ma lancia una scuola italiana di cui i protagonisti principali sono appunto proprio Zavattini e pedrocchi Leo e Zavattini e pedrocchi fondano il primo la prima autentica scuola del fumetto italiano ed è una scuola che io amo definire colta vale a dire dato che contemporaneamente nasce si sviluppa soprattutto durante la guerra e poi esplode dopo guerra un fumetto popolare molto minimo anche dal punto di vista dei veicoli editoriali cioè degli albetti striscia degli albi poveri invece nelle grandi pagine non so se si può vedere la grande pagina doppia dello studio di Albertarelli e pedrocchi che è la grande pagina a colori che rappresenta di più il fumetto il fumetto italiano degli anni 30 Cesare Zavattini niente meno che Cesare Zavattini e Federico Pedrocchi insieme assoldano i migliori disegnatori sulla piazza e portano lo portano il fumetto da una condizione ancillare nei confronti di quello americano da un lato e di considerazione molto bassa da parte degli stessi editori che lo consideravano un riempitivo il fumetto italiano lo portano invece alla dignità di opera d'arte e di comunicazione di massa ai massimi livelli c'è un caso in particolare che poi mi chiudo perché veramente la materia è in male ed è quella della riduzione a fumetti di Luciano Serrapilota che è un film discutibile quanto si vuole propagandistico quanto si vuole che però è diciamo l'avvenimento principale della mostra del cinema di Venezia del 1937 per la prima volta una riduzione a fumetti fatta da Walter Molino capacissimo di imitare di ritrarre alla perfezione come Deo Navarri nelle parti del protagonista con riconoscibilissimo di fare un fumetto che non è soltanto una banale riduzione ma è una un'opera parallela di rincalzo al film in cui però il fumetto è considerato un linguaggio parallelo a quello del cinema quale dignità tutto questo ITER porta a opere straordinarie Virus Faust ha una collaborazione addirittura con Gianluigi Bonelli e abbiamo nel volume abbiamo riportato le lettere che si scambiano Pedrocchi e Bonelli e che la guerra ahimè uccide proprio letteralmente un giorno terribile nel 1945 quando Federico Pedrocchi muore sotto un mitragliamento inglese mentre si sposta in treno da Milano al luogo dove era sfollato con la famiglia un pendolare di allora che era esposto a rischi maggiori di quelli di oggi tutto questo è nel nostro volume io sono orgoglioso di essere un coautore di questo di questo volume perché credo che abbiamo avuto la prefazione di Mimmo Franzinelli che è il massimo storico del fascismo non solo in Italia e che sia forse la prima volta che l'argomento storia editoriale del fumetto è stata trattata in maniera il dietro le quinte insomma ecco del fumetto è stato trattato in maniera esaustiva sui contenuti e sulla critica del fumetto per carità cioè c'è stata e ci sarà sicuramente a questo punto io Luca io ti farei intervenire per una chiosa finale di questo incontro e prima di salutarci e di passare ad altre ad altre avventure beh io chiuso brevemente perché il tempo è scaduto come si dice nelle migliori famiglie ricorderei appunto il titolo dei tuoi libri mi sarebbe piaciuto sapere qualcosa di più su Capriotti e su cosa è fatta insomma sul capitolo aggiuntivo questo lo facciamo la volta prossima tanto ce ne saranno ce ne saranno varie forse di persona se no allora io vi direi che questi libri sono disponibili sul mercato quello di Pierluigi in tutte le librerie dal 10 settembre circa e appunto ridico nuovamente il titolo che è dal signor Bonaventura Spurro contro la terra edito da Carrocci eccetto Topolino guarda caso sarebbe stato forse presentato a quella che sarebbe stata Luca Comics o Luca Changes è stato fatto qua comunque è in circolazione già da qualche settimana anche la nuova versione di eccetto Topolino pubblicata da NPE Nicola Pesce l'altra la prima versione mi risulta che sia stata esaurita in tempi molto veloci e quindi dalla non era più neanche reperibile sul mercato in tutti i modi possibili no io vi ringrazio tutti le opere si conglobarano tra loro in qualche modo parlano tra loro come in quei film animati della Warner Bros dove personaggi nella notte escono dai libri e fanno come si dice da noi il diavolo a quattro e poi la mattina quando il bibliotecaio accende la luce rientrano dentro magari un po' scombinati che ne so appunto virus esattamente così e l'altro ti scombinano vabbè però devono essere quindi letti tutte e due magari sinotticamente come i Vangeli anche se insomma non sono Vangelo ma ci si avvicinano abbastanza avrei finito la domanda grazie grazie sei stato molto gentile e quindi per il milione si passa più tardi sì sì certo e anche Sergio Lama che è con noi virtualmente certo io ringrazio tutti voi per essere stati qui dimmi Fabio anche io volevo semplicemente come Leo ringraziare te per aver organizzato questa doppia presentazione Luca per essersi prestato a fare da chaperone per per l'evento e ovviamente ci ha seguito sì vi do appuntamento alla prossima volta io spero che appunto la situazione contingente si abbia a risolvere quanto prima che magari alla prossima occasione possiamo fare due chiacchiere di Visu come siamo si è sempre stati abituati a fare a Luca e vabbè abbiamo compensato in questa maniera più tecnologica e se vogliamo un briciolo più impersonale ma mi sembra che comunque siamo riusciti lo stesso sembravamo in una stessa stanza devo dire perlomeno io ho avuto questa impressione per cui grazie ancora a tutti grazie ancora a tutti io direi appunto alla prossima volta e alla regia alla parola fine perfetto grazie mille parto col video grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille